Il primo big match della stagione, Juve-Roma è una classica del calcio italiano, capace di regalare tantissime emozioni nel corso degli anni. Pamela Ibrahim sul punto di battuta, allora via si parte, buon divertimento con Juventus-Roma, la terza giornata del campionato di Serie A. Vlaovic, Vlaovic! La Juventus è in vantaggio! È un capolavoro, quello di Dusan Vlaovic! Vlaovic, neanche un minuto e mezzo, Juventus-1, Roma-0, ha segnato Vlaovic! Vlaovic punta alla porta, Vlaovic non riesce a servire nessuno, arriva Alexandro Arimorchio, può calzare in porta, Alexandro, Alexandro! Palla fuori di pochissimo, la sventola di Alexandro, out all'undicesimo. Miretti, Miretti, prende il tempo benissimo, va Fabio Miretti, a sinistra c'è Kostic, Miretti ancora, Miretti si allarga per Quadrato, adizione va a Juan, Quadrato, Quadrato! Rui Patrizio! Dice di no alla sventola di Juan Quadrato, che rimane giù a terra. Vlaovic punta a Smolling, Vlaovic ancora, Madujan, Vlaovic, 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 Vlaovic si allarga per Quadrato, può metterla in mezzo, Juan. Quadrato fuori il pallone, Locatelli! Il raddoppio della Juventus, Manuel Locatelli, destro, secco, ancora fermo Rui Patrizio, costraordinario di Locatelli, 2-0 per la Juve. Alla fine non ha dato il gol, perché ha dato calcio di punizione, alla fine aveva indicato il cerchio di centrocampo, quindi non è valido il gol di Locatelli. Quadrato! Rui Patrizio la blocca! Finisce qui, il primo tempo all'Allianz Stadium, le squadre vanno negli spogliatoi, 1-0 per la Juventus. Ancora Quadrato, Cemiretti libero, ancora Quadrato, Quadrato! Oh! Pala fuori di pochissimo, grande occasione per la Juve, il sinistro di Juan Quadrato. Di bala punta la porta, di bala, il dialogo, il die e vai verso Ebrakam, attenzione, Ebrakam! Shesny! La presa, senza problemi. Questa è una buona opportunità però per la squadra giallorossa. Pellegrini, il suo traversone sul palo lungo, al volo, dentro il pallone, Ebrakam! Troppo di destra la pali in rete, il pareggio della Roma con Tami Ebrakam, alla minuto numero 69, il punteggio torna in parità. Juventus 1, Roma 1, la rete di Ebrakam. Pellegrini, il suo traversone sul primo palo, attenzione, palla che rimane lì, Shesny! E poi palla, spazzata via in qualche modo, non è finita, Roma ancora in attacco, con il tiro di Sharawi ribattuto. Grande pericolo ancora una volta sugli sviluppi del corner. Finisce qui la partita, all'Allianz Stadium di Torino, finisce 1-1 tra Juventus e Roma.